Arnold Schwarzenegger ha aperto l'Australian World Summit a Vienna, un vertice che raduna gli attori internazionali che intendono dare risposte concrete sul clima e ha chiesto al mondo intero di smettere di pianucolare, invitando il presidente americano Donald Trump a unirsi al movimento per salvare il pianeta. Chi di voi ci sta guardando da casa, chi è preoccupato per il futuro, chi di voi resiste perché non può immaginare il futuro senza i combustibili fossili, ha detto, a tutti voi chiediamo di unirsi, ciascuno di voi, anche tu presidente Donald Trump, unisciti a noi. Guardate questa sala, ha aggiunto l'ex governatore della California, rappresentiamo più di 70 nazioni, ci sono due presidenti, tre premier e più di due milioni di persone che ci stanno guardando, è questo ciò che intendo per chiamare a raccolta. Signore e signori abbiamo un enorme fardello da sopportare, ma insieme possiamo farcela, soprattutto se abbiamo fiducia, è tempo di iniziare ad agire, è tempo di smettere di pianucolare, di agire, smettiamo di pianucolare.